benvenuti e bentornati al veggie channel live show un programma in diretta streaming sulla pagina di veggie channel su facebook e sul suo omonimo canale youtube questa sera in studio con noi abbiamo due rappresentanti dell'associazione amico niglio di roma che si occupano del benessere appunto di questi simpatici animaletti successivamente avremo in studio con noi giuseppe oman che per primo a roma ha fatto realizzare una casa di paglia interamente di paglia nel cuore di roma eccoci in studio finalmente con le rappresentanti di amiconiglio punto it un'associazione onlus che si occupa del benessere dei conigli abbiamo qui marina porzia vicepresidente dell'associazione e la psicologa emmanuela rossi ho detto bene buonasera buonasera allora qual è l'obiettivo di questa sera vogliamo dimostrare vogliamo capire l'intelligenza del coniglio perché ci è venuto il dubbio che il coniglio fosse proprio intelligente in maniera simile al cane in maniera simile al gatto infatti andremo a vedere il concetto dell'intelligenza capire come va valutato il comportamento di un coniglio come relazionarsi con lui e quale può essere anche l'utilità in campo sociale avendocelo per esempio come compagno compagno di vita allora intanto vorrei sapere questa associazione quando è nata e di che cosa si occupa sì allora amiconiglio nasce è nata praticamente dieci anni fa in questo anno ricorre proprio il decimo anno appunto della fondazione e nasce grazie ad alcuni volontari che praticamente si sono riuniti e che sono venuti a contatto con quest'animale perché praticamente ce l'hanno in casa come animale da compagnia e hanno visto che animale è che un animale intelligente affettuoso pieno di personalità divertente e che se lo lascia se lo lasciamo libero di esprimersi fuori da una gabbia veramente un animale che può darci tantissimo esattamente come un cane come un gatto quindi nasce poi per il recupero di questi animali perché è diventato un animale da compagnia è il terzo animale da compagnia dopo il cane e il gatto però purtroppo ai me come come il cane come il gatto subisce la stessa sorte dell'abbandono e quindi l'obiettivo dell'associazione è andare a recuperare questi coniglietti che sono abbandonati nei parchi nelle strade oppure andare ad aiutare famiglie che non riescono a gestirli e quindi ci chiedono di trovare per loro una nuova sistemazione quindi noi li accogliamo nelle nostre case nelle case dei volontari li recuperiamo li curiamo una sorta di stallo come si fa? sì facciamo praticamente siamo una rete di volontari che stallano questi animali sì li vengono in casa anche questa scusa se ti interrompo è la prima cosa che colpisce esistono delle associazioni che si occupano dei conigli nello stesso modo con cui altre si occupano di cani e gatti e questo non si sa quindi c'è una mancanza di informazione anche perché la prima cosa che viene in mente ma sì ma tanto ce ne sono così pochi che non ne vale la pena e invece qual è la quantità di conigli adottati nelle famiglie italiane? ce ne sono tantissimi dicevo che praticamente è il terzo animale da compagnia quindi ci sono tantissime associazioni e gruppi di coniglieri in Italia che si occupano di questo animale proprio perché il fenomeno sta crescendo a dismisura attenzione che adesso che l'hai comunicata questa cosa molti partiti politici usciranno fuori con una lista pro conigli sicuramente sicuramente beh guarda tanto ci aspettiamo di tutto no quindi però vorrei sentire un attimo la dottoressa sul concetto dell'intelligenza so che non è un argomento facile forse non c'è una definizione però possiamo parlare di intelligenza o come possiamo definire le capacità relazionali di un animaletto piccolo come il coniglio? diciamo che noi possiamo vederlo intelligente in qualche modo perché riesce a relazionarsi con noi importante è sapere che lui è una preda quindi per scoprirlo veramente dobbiamo noi che siamo predatori trovare il linguaggio giusto per poter comunicare con lui quindi la parola intelligenza forse è più da rapportarsi alla questione della comunicazione il livello di comunicazione si è più apportato alla comunicazione sicuramente quindi la capacità di relazionarsi con un altro essere nostra denota forse una certa intelligenza e la capacità del coniglio di relazionarsi con noi ci fa capire quanto sia sensibile quanto sia da considerarsi come un altro animale si senz'altro non solo ce lo fa capire ce lo fa proprio vedere perché noi col coniglio se instauriamo una vera relazione possiamo giocarci possiamo vedere che se lo chiamiamo viene da noi e possiamo vedere che si avvicina sale viene in braccio si fa coccolare eccetera ecco però vorrei questo a mio svantaggio raccontare una piccola storia perché quando non ero ancora molto sensibile alla questione degli animali diversi anni fa vivevo a Parigi e mi sono fatto fregare perché mi hanno venduto due conigli dicendomi che erano conigli nani e nel mio piccolo appartamento di Parigi ero sicuro di avere due buoni compagni li ho acquistati li ho tenuti con me per qualche tempo ma molto rapidamente li ho dovuti dare dare regalare a una famiglia perché nel frattempo erano diventati giganteschi quindi non erano assolutamente nani poi mangiavano rodevano qualsiasi cosa nell'appartamento e soprattutto non facevano quello che mi avevano spiegato cioè che si sarebbero comportati come gatti, come cani, avrebbero risposto al nome, avrebbero eseguito qualche piccolo ordine perché non è successo questo e qual è stata la mia negligenza in questa procedura? Non è successo questo proprio perché lei si è comportato da pretatore quindi i suoi comportamenti hanno spaventato i conigli e loro in coppia hanno continuato a vivere, passatemi il termine, da conigli mentre se noi ci avviciniamo a loro magari mettendoci a terra quindi avvicinandoci proprio piano piano li conquistiamo, iniziamo un certo tipo di rapporto e possiamo anche creare un nostro particolare linguaggio e quindi loro cominciano a seguirci, cominciano a rispondere però poi è naturale che come tutti gli animali possono combinare qualche guaio che è quello del rosicchiare qualcosa oppure di far pipì in giro perché non può succedere le pallette sono una situazione un po' particolare nel senso che loro segnano il territorio quindi magari hanno sentito un odore particolare con le pallette segnano il territorio è più pratico perché la bb non la levi facilmente eh sì volevo dire una cosa anche a proposito del discorso che mangiano tutto quello che noi volontari vogliamo fare allora intanto sono erbivori stretti quindi in natura mangiano l'erba però nei negozi per i conegli vendono i mangimi allora in natura loro sono erbivori stretti quindi mangiano l'erba che è l'alimento base per loro si nutrono nei momenti diciamo più magri della corteccia degli alberi, delle foglie eccetera in casa loro quindi non sono roditori? non sono roditori, sono lagomorfi poi ci dirai la differenza tra roditore e lagomorfo è un lagomorfo no è tutto riconducibile cerco di far ricordare io adesso non me lo dimenticherò più lagomorfo praticamente loro hanno Manuela sei incisivi giusto? ne sono quattro scusate quattro sopra e due sotto giusto? ripetiamo la lezione i lagomorfi sono i conigli? sono conigli sono conigli e non sono roditori ok e hanno come la dentatura? è differente quattro incisivi sopra, due sotto quelli di sopra se ne vedono solamente due mentre i roditori ne hanno quattro un top è un roditore, un coniglio è un lagomorfo esattamente però ancora purtroppo si sente in giro dire che il coniglio è un roditore rosicchia tutto perché è un roditore non è un roditore comunque ritornando al discorso della gestione in casa il coniglio è vero che rosicchia tutto ma anche perché si annoia quindi si può allora innanzitutto nel momento in cui noi mettiamo un coniglio in casa dobbiamo rendere la casa sicura a prova di coniglio quindi ad esempio fili elettrici dovrebbero essere passati tutte nelle cannelline la gente dice ma metta a fare tutte queste cose per tenere un coniglio però ecco è il discorso della consapevolezza e la responsabilità di prendere un coniglio e di metterlo in casa ma è più facile sbolognare il coniglio esatto se invece io metto in sicurezza non è la colpa non è la colpissima no vabbè perché magari uno non le sa queste cose non mi sento in colpa terribilmente anche io più di dieci anni fa forse quindici anni fa quando ho avuto il mio primo coniglio in casa non le sapevo queste cose poi piano piano insomma uno li conosce approfondisce devo dire che noi come associazione abbiamo tantissimi veterinari esperti in animali esotici perché il coniglio questo lo dobbiamo dire è un animale non convenzionale e quindi deve essere seguito da un veterinario esperto in animali esotici che ha una casistica maggiore che quindi ha delle conoscenze più approfondite nei confronti di questo animale che è diverso da cani e gatti quindi se portiamo coniglietto da un veterinario tradizionale potrebbe non sapere tutto potrebbe non sapere tutto è vero Manu? sì per esempio che cosa potrebbe non sapere? potrebbe non riconoscere proprio le caratteristiche fisiologiche del coniglio nel senso che non potrebbe aiutarlo è necessario proprio un esperto in esotici ok allora quindi non si deve offendere nessuno no assolutamente ormai lo sanno tutti impariamo adesso che esistono veterinari come si dice tradizionali e quelli specializzati in animali esotici diciamo il veterinario che cura prevalentemente cani e gatti e poi i veterinari esperti in animali esotici che curano tutti gli animali non convenzionali e poi prettamente esotici quelli che arrivano d'oltre mare da questo veterinario esotico ci si porta anche la tigre cioè si va o sono conigli fanno? no di che cosa si occupano? pappagalli? esatto no 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 diciamo sono tutti quegli animali che arrivano d'oltre mare cioè serpenti esatto animali non convenzionali animali non convenzionali diversi da cani e gatti praticamente però coniglio non è un non convenzionale è un non convenzionale è considerato un animale non convenzionale considerato ma in effetti poi è un animale come tutti gli altri è una convenzione o è proprio diverso per qualche motivo? no è proprio diverso il coniglio ad esempio almeno per la mia per l'esperienza che ho fatto ci sono dei farmaci che possono essere dati tranquillamente ad un cane e un gatto ma non si possono dare a un coniglio nasce tutto per esempio dall'apparato gastrointestinale che ha un apparato gastrointestinale il coniglio delicatissimo e particolarissimo loro hanno praticamente devono continuamente ingerire fibre perché l'intestino esattamente ma l'intestino di un coniglio deve essere sempre in movimento un altro luogo comune differenza tra cavia e coniglio cos'è una cavia rispetto a un coniglio? è un roditore diciamo proprio che la cavia è proprio un roditore è diversa da un coniglio anche se nella gestione è molto simile hanno più o meno la stessa alimentazione diciamo che in aggiunta la cavia potrebbe avere una carenza di vitamina C quindi deve mangiare determinati alimenti che vanno a compensare questa carenza ed è diversa da un coniglio ad esempio il coniglio ha due malattie importantissime per cui deve essere vaccinato che è la MEV e la mixomatosi adesso c'è uscita una nuova variante della MEV la cosiddetta MEV2 e da pochi giorni, da poco tempo c'è un nuovo vaccino appunto per questa malattia che sono due malattie mortali e sono importanti cioè questi vaccini sono fondamentali per la cavia invece i vaccini almeno al momento non c'è nulla quindi per il pedagogato voi non vi occupate di il roditore? noi ci occupiamo anche di cavie e di anche... non fa le discriminazioni no assolutamente allora diciamo che tra virgolette siamo specializzati in conigli che è il nostro amiconiglio si chiama amiconiglio quindi nasce per questo però accogliamo anche cavie altri piccoli roditori altri piccoli animali da compagnia quindi se incontriamo un cane e un gatto li salviamo lo stesso ok quindi amiconiglio non è un posto dove andare a scaricare il coniglio anche se forse in alcuni casi purtroppo capita spesso così capita spesso così serve per acquistare come si dice avere informazioni sì noi vogliamo aiutare le persone a gestire al meglio il coniglio in casa oh ma in Italia non ci siete solo voi che si occupano no 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 ci sono tanti gruppi conigliari e tante altre associazioni che si occupano appunto di questi animali questo però fa vedere proprio com'è cresciuto il fenomeno perché la nascita di questi gruppi e di queste associazioni fa capire che è un fenomeno in espansione e la cosa più bella o più brutta come la vogliamo dire è che da un po' di tempo a questa parte i conigli vengono abbandonati ovunque cioè ci sono i parchi che ne sono pieni e purtroppo quando si deve abbandonare un coniglio ma non ai parchi sì lo metto tanto c'è l'erba lì sa natura vivrà bene ma un animale cresciuto in cattività quanto può vivere in un ambiente una domanda un po' cattiva per Emanuela ma se ci occupiamo del benessere del coniglio allora dobbiamo occuparci anche di quello delle galline per esempio che vengono abbandonate o che come è successo con la nostra amica dottoressa Luciana Baroni se ne è trovata una sul cofano della macchina e l'ha adottata poi alla fine di questa intervista rimanete incollati sul canale perché vi faremo vedere questo video estremamente molto sorprendente perché vi parla dell'intelligenza intelligenza tra virgolette di questa gallina e del rapporto che si è instaurato tra lei e questa dottoressa tornando alla gallina possiamo immaginare di di avere un'associazione che si occupa del benessere delle galline domanda cattivissima penso di sì perché no è comunque è un essere vivente quindi sì perché adesso i non animalistici prenderanno per matti ma tanto noi siamo abituati però a ricordi logica se esiste un'associazione che si occupa del benessere del coniglio perché dove finisce qual è la scala dell'intelligenza messa in rapporto con la scala della sofferenza per quanto riguarda poi il problema della macellazione molti pensano che la macellazione degli animali non sia un problema perché comunque l'animale non sente perché non è sufficientemente intelligente riusciamo a dare una spiegazione? diciamo che in realtà forse lo dicono perché debbono risolvere il problema come vogliono perché comunque l'animale soffre il problema di coscienza lo possiamo dire esattamente il problema di coscienza l'animale soffre a di là del concetto di intelligenza che noi conosciamo da cosa lo possiamo vedere se un animale soffre o no? l'animale soffre lo vediamo dall'espressione soprattutto i conigli hanno linguaggio non verbale molte foto ci fanno proprio vedere il terrore degli occhi del coniglio alla macellazione però molti sostengono che gli animali anche i cani sono privi di tutti quei muscoli che invece l'essere umano ha per esprimere i sentimenti e ne hanno altri hanno altri mezzi di comunicazione è nostra intelligenza andati a cercare e quindi interagire con loro quindi possiamo dire che se pensiamo che un animale magari anche di piccola taglia non soffra perché riteniamo che sia il meno intelligente quello che fa la figura del meno intelligente siamo noi senz'altro direi proprio di sì ok voi invece come avete organizzato la vostra associazione quanti siete come volontari come siete distribuiti sul territorio? allora la nostra associazione diciamo che opera prevalentemente a livello regionale quindi prevalentemente nel Lazio è stata proprio una scelta perché non si riesce a seguire poi cioè diventare nazionali significa seguire tantissime realtà diverse per ogni regione per ogni città e non è possibile quindi abbiamo scelto di rimanere regionali operiamo principalmente nel Lazio a Roma attualmente abbiamo circa 25 volontari sì che diciamo i 25 volontari sono proprio quelli attivi e poi abbiamo chiaramente tantissime persone che ci seguono che ci danno una mano come possono eccetera e quello che facciamo noi appunto è di ovviamente nessun aiuto dello Stato vuol dire non è come un canile oppure c'è questa possibilità no 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 allora noi siamo una hollus quindi siamo piccoli e quindi riceviamo anche il 5 per 1000 qualche donazione l'abbiamo poi abbiamo tante donazioni degli appassionati di questi animali perché è un mondo un po' sommerso non si sa ma ci sono tantissimi appassionati tantissime persone che ci donano fanno delle offerte non so fanno le raccolte fieno raccolte cibo insomma viviamo di questo a volte quando proprio non ce la facciamo ci autodassiamo e andiamo avanti insomma adesso abbiamo deciso di non mostrarvi tutta una serie di immagini che ci avete mandato perché ci sono dentro dei bambini dei bambini che si relazionano con questi coniglietti chissà forse magari poi ci metteremo d'accordo con i genitori riusciremo a vederli ugualmente però ce le potete raccontare un attimo queste immagini allora noi abbiamo fatto un progetto all'interno di una scuola romana il progetto si chiama arcobaleno ed è un progetto di interventi assistiti con gli animali in specifico di attività assistite con gli animali questo progetto nasce per permettere ai bambini di interagire in modo corretto con un animale in questo caso il coniglio e di permettere di usufruire del benessere che deriva dalla relazione uomo-animale il progetto si suddivide in tre fasi nella prima fase abbiamo fatto degli incontri esclusivamente con i bambini per poter conoscerli relazionarsi con loro e vedere se c'erano delle attraverso il comportamento vedere se c'erano delle altre ulteriori difficoltà una volta si venivano chiamate la pet therapy la pet therapy adesso viene chiamata appunto interventi assistiti con gli animali e poi ci sono le attività assistite con gli animali che abbiamo fatto noi che abbiamo fatto noi con i bambini posso rivolgermi per avere qualche sono un genitore voglio far fare questa attività a mio figlio deve rivolgersi all'ASL o a Roma all'istituto di sanità chiede se ci sono possibilità di svolgere queste attività che normalmente anche in questo caso vengono fatti con i cani o con i cavalli o con gli asini e noi siamo un po' un'eccezione con i conigli se io invece mi rivolgo direttamente alla vostra associazione noi abbiamo conigli posso essere indirizzato per poi ottenere questa possibilità come no assolutamente il progetto è nato in questa scuola dove in realtà io e Manuela lavoriamo nasce in una scuola loro hanno un grande giardino quindi ci hanno dedicato uno spazio ci hanno dato questo spazio e tutte queste attività sono state fatte all'aperto con i conigli in sicurezza e bimbi in sicurezza chiaramente e come stava dicendo Manuela è nato per aiutare bambini con delle problematiche con delle difficoltà ma l'abbiamo rivolto a tutti perché comunque la relazione uomo-animale si può dire che fa bene a tutti quanti infatti stavo appunto dicendo che le altre fasi erano date dalle attività dove i bambini potevano incontrare i conigli solo a livello visivo e questo era molto importante perché i conigli potevano abituarsi ai bambini sentendosi in uno stato di tranquillità e sicurezza l'elemento proprio principale del progetto è l'incontro vero e proprio nell'interazione volevo dire che il nostro approccio tiene strettamente conto delle caratteristiche etologiche del coniglio quindi andiamo ad evitare tutti quei comportamenti che sono visti dal coniglio come predatori perciò negli interventi non alziamo il coniglio prendendolo in braccio non lo teniamo in braccio e lo facciamo accarezzare dai bambini non lo diamo in braccio ai bambini no aspetti aspetti non lo mettiamo ascolti bene perché questo è importante non lo mettiamo nelle ceste e nelle scatole e li facciamo toccare questo perché come ho detto prima sono comportamenti predatori che stressano il coniglio il coniglio è libero nel nostro ambiente dove siamo noi di muoversi e decidere di interagire quando e come vuole questo è appunto ripeto è importante perché il coniglio in questo caso non si stressa dato che è diciamo questa bella parola intelligente poi dopo abbiamo delle belle sorprese esatto dato che è intelligente dato che è curioso e dato che i nostri conigli sono molto socializzati si avvicinano e quindi interagiscono ma l'elemento principale molto importante è che questo insegna i bambini a costruire una relazione basata sul rispetto perché io attendo attendo e ti rispetto e quindi costruisco questa relazione in modo differente da ti voglio prendere ti voglio toccare come spesso fanno i bambini ma la relazione c'è perché i conigli si avvicinano perché vedono un'erbetta particolare perché c'è un gioco particolare sono animali molto curiosi quindi si intuosiscono sono affettuosi si può parlare di spesso sì assolutamente loro decidono anche loro quando danno proprio i bacini cioè ti leccano il viso la testa le mani lo fanno esattamente come lo può fare come fa il cane come fa il gatto come fanno anche tra di loro per i bambini è importante capire che esiste un'altra forma di intelligenza esatto che non è come la nostra quindi considerarlo predatore non andargli incontro è importante capire che esiste una forma di comunicazione differente perché noi non abbiamo dei risultati scientifici purtroppo da questo progetto però per esempio in alcuni bambini non dotati abbiamo notato che hanno acquisito dei canali di comunicazione differente per interagire in modo proficuo con i bambini con difficoltà sia di handicap che sociale quindi acquisiscono proprio una modalità diversa certo non tutti perché ogni bambino ha la sua sensibilità siamo tutti diversi naturalmente beh molto interessante quindi a partire dalla dall'acquisizione di un nuovo forma di intelligenza dalla capacità di interagire con un essere diverso da noi noi possiamo essere migliori anche nella società con altri esseri umani diversi per carattere o diversi anche per l'obiettivo del progetto è proprio quello no? cioè di dargli dare ai bambini gli strumenti per capire una comunicazione non verbale e avere essere facilitati poi nel rapporto anche con gli esseri umani certo quindi l'obiettivo è proprio è proprio questo va bene io direi che abbiamo suscitato notevole curiosità quindi vi inviterai a arrivederci pregherei anche coloro che ci seguono di farci conoscere le loro storie perché no portare qui certo portare qui un coniglio forse è troppo stressante non è una cosa da farsi però io sì ci pensavo abbiamo dei conietti tipo Luke loro che sono abituati anche all'attività sessili abbiamo bisogno di mezz'ora prima per ambientarli sì farli ambientare un pochino prima perché no si può fare tranquillamente possiamo tranquillamente evitarlo se è per stressare il coniglietto non c'è bisogno possiamo filmarlo ma dipende sempre dall'approccio da come lo presentiamo comunque qualche settimana fa abbiamo avuto in studio un agnellino quasi appena nato era però tranquillissimo era visibilmente a suo agio quindi non ci siamo preoccupati più di tanto si può fare credo di sì che lo possiamo fare anche proprio per far vedere effettivamente che cosa sono questi animali perché non io dico sempre che sono degli illustri sconosciuti pur avendoli in casa perché non non li conosciamo diciamo che vederli veramente sarebbe meglio un video perché in ambienti più tranquilli riescono a fare diverse cose perché anche Milo ha un incontro dell'associazione di Amiconiglio praticamente è rimasta immobile quindi che appello possiamo fare per aiutare l'associazione oltre a ricordarvi che su Amiconiglio.it si possono avere tutte le informazioni necessarie però di cosa ha bisogno in questo momento l'associazione? l'associazione in questo momento ha bisogno di affidatari cioè quindi di persone che fanno gli stalli perché le richieste di aiuto sono tantissime e avendo fatto la scelta di non avere un rifugio proprio perché che gli animali possano vivere in casa e quindi nel momento in cui poi vanno in adozione insomma siano animali socializzati però purtroppo gli spazi che abbiamo non vanno a coprire tutta la richiesta che c'è quindi chiediamo aiuto a quei volontari che hanno un piccolo spazio in casa da offrire a questi piccoli animali tutte le spese sono a carico dell'associazione quindi a noi ci serve solo uno spazio per accoglierli il tempo necessario per trovare loro una nuova sistemazione quindi questa è veramente per noi una grande cosa e un'ultima cosa che volevo aggiungere è che da un anno l'associazione ha una sezione anche di guardie zoofile all'interno dell'associazione le guardie zoofile praticamente si occupano del rispetto di alcune leggi che ancora anche se ce ne sono non sono ancora tantissime ma ce ne sono a favore degli animali a tutela degli animali che è appunto la 189 che è la legge quadro poi abbiamo una legge regionale che tutela gli animali e vali regolamenti comunali quindi in questo caso Amiconiglio che si occupa prevalentemente di conigli attraverso le guardie zoofile ha la possibilità di aiutare praticamente tutti gli animali quindi chi vuole fare una segnalazione può farlo scrivendo a guardie zoofile amiconiglio.it per appunto far intervenire molto bene grazie Marina grazie grazie a voi grazie a trovarci vi vorrei invitare a rimanere con noi fino alla fine di questa intervista per non perdervi la storia di Molly la gallina piovuta dal cielo e per ultimo vorrei salutare il nostro coniglio amico Yasha che vive in questo momento con Sasha e Misha li ho detti tutti e quindi alla prossima edizione con amico Oniglio ciao lei è Molly e Molly è uscita dal nulla si è concretizzata sul cofano della macchina una mattina di un anno e mezzo fa circa era lì che dormiva Beata e io l'ho trovata montando in macchina ho visto questi due occhi che mi guardavano e così l'ho presa su l'ho portata a casa in giro non ci sono pollai non ci sono galline noi pensiamo che sia caduta giù da un camion di quelli che trasportano polli anche perché aveva tutto il collo completamente senza piume e probabilmente si è messa sul cofano della macchina perché era freddo il cofano era caldo e ha passato lì la notte solo che ha dimostrato un'intelligenza estrema perché ha scelto l'unica macchina di una famiglia vegana da dieci anni per cui ha scelto una una famiglia che non solo non mangia mai lei ma nemmeno le sue uova Vero Molly si 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 e poi sembra di avere un cagnolino nel senso che quando arrivo a casa lei mi viene incontro mi fa le feste tutti i giorni fa il suo ovetto che viene regalato in giro gli amanti delle uova fresche comunque sono uova ovviamente non 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 fertili e nemmeno frutto di sofferenza quindi sarebbero un prototipo di uova vegano non avevo mai avuto una gallina pensavo che fosse un animale estremamente stupido invece devo dire che è un animale intelligentissimo io penso che quando si riesce a comunicare con un animale questo presuppone che ci sia una certa capacità di utilizzare alcune funzioni cognitive un animale che è in grado di comunicare con un altro animale di un'altra specie probabilmente riesce a sfruttare qualcosa che lui riesce a ricavare con delle strategie che presuppongono una certa intelligenza anche se ovviamente non possiamo paragonare l'intelligenza di un animale all'intelligenza di un animale cioè ogni animale ha un'intelligenza differente dall'altro che non vuol dire che siano più o meno intelligenti cioè non è una questione quantitativa qualitativa lei quando mi vede si accuccia allarga le alette e aspetta la carezza poi ripeto quando arrivo a casa mi viene incontro mi fa le feste poi quando ci mettiamo a mangiare lei arriva si mette sulla finestra e ci guarda e sa che quando finiamo di mangiare poi le diamo sempre la pasta avanzata il riso avanzato insomma quello che e lei aspetta quel momento sa che arriva regolarmente quindi questa giornata lei ha tutto il giardino a sua disposizione e praticamente va in giro passeggia a razzola e poi ha scoperto che nell'orto è più fresco perché c'è una densità di piante superiore al resto del giardino per cui si è scavata una buca nell'orto e quando è caldo lei va lì si mette all'ombra col fresco della buca e si fa le sabbiature le cose poi sta lì insomma diciamo che fa la bella vita lei convive tranquillamente con i cani ho visto all'inizio però non con i miei cani con un altro cane di un amico che era venuto qui e che aveva cominciato a correrle dietro lei si è subito gonfiata ha allargato le ali quindi ha ha assunto quell'atteggiamento da difesa che di solito è innato negli animali e il cane non ha più provato a darle fastidio insomma si stufa si stufa si stufa le dico spesso che lei è la gallina la gallina più intelligente del mondo e anche la più fortunata perché noi non magari pensiamo che le galline vivano pochissimo ma in realtà le galline possono vivere fino a 18 anni se pensiamo che vengono fatte nascere e allevate per diventare degli enormi pulcini che a tre settimane e quattro vengono sacrificati per essere mangiati è terribile pensare a questo pensare che un esserino così possa venire mangiato cioè l'unico scopo della sua vita possa essere quello di far mangiare qualcuno una coscia di pollo o o qualcosa di simile in questa casa ci sono come avete visto una gallina sbagliate migliaia di zanzare tre cani tutti i trovatelli otto gatti più tre sono temporaneamente ospiti lei è la Blanca detta Babi un giorno guardando in internet ho trovato l'appello della sua adozione che veniva da Loredana di Roma in cui diceva che l'adozione di Blanca era urgente perché Blanca non mangiava più non si muoveva più stava sempre in un angolino del recinto così io ho deciso che dovevo assolutamente prenderla anche perché aveva uno sguardo che mi ricordava la mia precedente cagnolona che ci aveva lasciato un paio di anni prima e così lei è arrivata qui si è trovata tutta una compagnia di cani e gatti con cui ha avuto qualche piccolo scontro all'inizio però insomma il tutto si è risolto con minime lesioni personali qualche qualche punto dato per il resto lei è coccolona è terribilmente affettuosa ha un carattere dolcissimo va d'accordo con tutti lei sta dicendo che anche se è piccolina anche se il suo impatto ambientale è molto più basso di quello dei capretti e delle mucche comunque lei è un essere dotato di intelligenza dotato di di emozioni e quindi ha gli stessi diritti di non essere fatta soffrire di tutti gli altri esseri viventi giusto? ecco adesso invece sta dicendo che anche se la sua carne è bianca quindi non è stata correlata con il rischio di tumore del colon retto come le carni rosse non si sa mai in ogni caso la sua la sua carne è sua ecco mentre voi stavate guardando la storia della gallina piovuta dal cielo noi ci siamo spostati veloci veloci a casa di Giuseppe Oman grazie di di riceverci Giuseppe prego prego benvenuti Giuseppe come che dici parliamo al microfono si scusate come stai come come ti trovi finalmente in questa bellissima casa devo dire me la sto proprio godendo tutti i giorni perché per me è un luogo fantastico di di pace veramente e poi devo dire anche di bellezza perché nonostante così la semplicità però sono tutte cose che ho costruito ho meditato a lungo quindi è un luogo che vivo con gioia veramente allora svegliamo un attimo questa è la casa ideale per i conigli che abbiamo di cui abbiamo parlato prima perché sarebbe la casa ideale per un per un coniglio ma diciamo che la casa ideale perché c'è la muratura in paglia ecco siamo in una casa di paglia come potete vedere non si vede la paglia perché poi è stata comunque rivestita si può scegliere di rivestire in maniera che quasi non si veda come 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 è fatta la muratura all'interno all'interno però questa casa e siamo nel cuore di roma è costruita interamente in paglia vogliamo spiegare un po' sì questa casa praticamente è stata una scelta meditata per tanti motivi la struttura di base è fatta in legno e la tamponatura in paglia perché questo perché è un materiale estremamente povero perché diciamo è lo scarto della lavorazione del grano o dell'orzo però in realtà è un materiale altamente tecnologico è lo scarto però i conigli ci andrebbero a nozze è logico ma la mangiano la paglia la mangiano la mangiano la mangiano il fieno più il fieno più il fieno però penso che non disdegnerebbero di rosicchiare però nonostante tutto all'interno della casa come potete vedere siamo venuti qua per verificare perché noi abbiamo nel 2012 conosciuto Giuseppe proprio perché c'era uno scoop da fare a Roma veniva costruita la prima casa di paglia in assoluto e Giuseppe è lui che l'ha fatta costruire siamo venuti l'abbiamo seguito durante tutte le fasi della costruzione della crescita ma non eravamo riusciti ad essere invitati da te all'interno è stata una procedura abbastanza lunga per arrivare alla fine di tutti i lavori insomma dispendiosa azia di forze sia anche tutto fatto abbastanza in economia quindi beh devo dire che è un'egreggia casa ci troviamo nel quartiere del quadraro un quartiere storico di Roma dove hai costruito questa casa che è un piano terra tra poco la vedremo meglio perché c'è un reportage che ci farà vedere proprio come è stata costruita ma perché la scelta di questo quartiere e perché la scelta di fare una casa di paglia? ma il quartiere ha delle tradizioni particolari è un quartiere nato nei primi del novecento ed era in origine abbastanza isolato dalla città poi è stato raggiunto da enormi palazzoni che gli sono cresciuti intorno però lui ha mantenuto diciamo una struttura da paese un paese quindi in case c'erano anche forse le pecore c'erano sì sono state per lungo tempo nei dintorni i pastori con le pecore se non ricordo male nel giardino di questa casa c'era una grossa botte c'era un bar forse un bar antico no 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 sì sì no proprio dove era la mia casa in realtà era un'osteria era un'osteria e c'è ancora questo ritrovo di tutti questa botte gigantesca mi ricordo che la resta in giardino adesso insomma è andata un po' in malora era conciata male sì sì però non ho potuto provvedere a un restauro adeguato quindi poi alla fine è andata è andata perduta però era proprio l'osteria che si chiamava il galletto e radunava un po' tutta la gente del quartiere che quando aveva finito il lavoro voleva rilassarsi chiacchierare andava lì allora adesso penso che sarà venuta la curiosità di vedere questa casa dall'esterno e soprattutto come sono si sono svolte le fasi della costruzione quindi pregherei Giulia che è in regia di mandare la prima parte del servizio che abbiamo realizzato con te nel 2012 la struttura viene creata proprio sulla grandezza della balla di paglia questo tipo di struttura è fatta a piccoli segmenti che sono stati scelti proprio della lunghezza della balla stessa tutte queste porzioni quindi sono state proprio tagliate in base alla grandezza della balla e queste piccole invece sono delle balle che vengono frazionate per via delle necessità diciamo che abbiamo di riempimento degli spazi non regolari queste sono all'incirca 400 balle considerato anche che una parte viene messa nel tetto questa è un po' una novità diciamo che è stata affrontata con il nostro architetto praticamente è stato fatto un alloggio di 20 cm sfruttando la larghezza delle travi sono state fatte quindi delle micro balle che sono state poi inserite diciamo all'interno delle travi queste balle devono essere abbastanza pressate questo dà garanzia sia per quanto riguarda la coibentazione sia per quanto riguarda resistenza al fuoco e quindi diciamo realizzare la struttura migliore possibile ecco queste sono per esempio queste sono delle balle lavorate sono state fatte con dei cerchiaggi per rendere più piccole a seconda dei posti dove si devono mettere queste sono delle esulte del lavoro il problema grosso delle balle è che non debbano prendere umido quindi c'è un problema anche di stoccaggio nei periodi soprattutto di pioggia quindi è stato preso un telo apposta per tenerle nel giardino quando quando si doveva preparare della platea della fondazione ecco adesso siamo in una nuova stanza diversa da quella di prima ma non perché ci siamo per davvero abbiamo bleffato un pochettino con voi abbiamo giocato perché non era possibile trasferirci tutti insieme a casa di Giuseppe Giuseppe ha portato le foto e le abbiamo messe come sfondo adesso che abbiamo visto la fase di costruzione è iniziale di questa casa ci vuoi spiegare un attimino proprio tecnicamente come si procede per costruire questo tipo di abitazione? la difficoltà più grande è la paglia perché in realtà la casa siccome deve essere dimensionata un po' sulla balla e quindi bisogna trovare la balla giusta che vuol dire che le caratteristiche che devono essere particolarmente pressata chiaramente per dare una consistenza e una durezza maggiore e poi siccome si tratta attualmente di macchinari antichi che fanno queste balle rettangolari perché quelli moderni ormai fanno tutte quelle ma bisogna tagliarle o bisogna... appunto, sì sicuramente in parte vanno anche tagliate però chiaramente si cerca di tagliare il meno possibile quindi di usare la balla per intero per avere una lavorazione più semplice e se non hanno tutte la stessa spessore come fai? diciamo c'è un minimo di elasticità poi ti viene il muro a bozzi qui non mi sembra che il muro sia... esattamente, sì sì e a me sarebbe piaciuto più il muro a bozzi francamente non mi interessava fare questa... però era anche bello diciamo creare una situazione più simile a quelle naturali proprio per dimostrare che praticamente non c'era una grossa differenza infatti pochi sanno che è una casa di baglia e chi non lo sa ci passa davanti senza accorto oh senti ma le balle che vengono messe una sull'altra poi come... la resistenza della casa da cosa viene data? la balla è abbastanza pesante ed è abbastanza incastrata per cui non è molto facile da spostare ma ci sono dei tiranti d'acciaio immagino ci sono dei montanti in legno i tiranti d'acciaio sono le controventature che servono alla stabilità laterale della casa che in questo modo si garantisce che questo rettangolo che viene formato dal legno non diventi una losanga oscillante con un terremoto ma in quel caso è funzionale esatto ma come no? ma si riesce a fare anche un piano o due piani? che guardia notizia tecnicamente si è arrivati anche a sette piani addirittura con il legno un bel fienile insomma un bel fienile no adesso non parlo di casa in paglia però parlo di casa in legna bene, in linea teorica dentro Roma potremmo fare una casa di due, tre piani in paglia ok esatto senti ma dopo questa tua prima esperienza sai hai notizia se a Roma ci sono altre situazioni simili? sì, ci sono state delle altre case realizzate sì, ci sono state adesso non so esattamente dove ecco adesso retrospettivamente parlando hai l'esperienza, ci hai vissuto, ci stai vivendo dentro, quindi puoi effettivamente riportare a noi il vantaggio, i vantaggi che ci sono stati in termini di ecosostenibilità, di consumo, di spese economiche so che inizialmente insomma non è stato semplice costruirla anche per le questioni tecniche da gestire in una città come Roma, una prima struttura di questo tipo poi come sono andate le cose successivamente? non ci sono stati problemi con le modalità costruttive e tecniche diciamo per esempio i permessi non hanno creato nessun problema il Genio Civile ha voluto il basamento in cemento quello un pochino mi è costato perché io proprio il cemento non lo volevo usare assolutamente quella è una fase obbligatoria sì, non ci hanno obbligato a farlo però volendo non era necessario dal tuo punto di vista? ci sono altre modalità sicuramente meno resistenti però adesso per un piano non era necessario avere tutta questa resistenza insomma un piano a casa in legno pesa veramente poco ok diciamo è una legge dalla quale non si può insomma si fa coi piedi di piombo e poi l'edilizia tradizionale quindi c'è una struttura di cemento un fondamento come tutte le case e poi sopra hai cominciato a costruire esatto tra l'altro un'altra cosa particolare è che si possono costruire case in paglia senza la struttura in legno addirittura si è arrivati anche a un paio di piani che sono autoportanti e costano ancora nettamente di meno e quindi però insomma da un punto di vista tecnico ancora non sono recepite da un punto di vista normativo e senti, gli architetti che sono in grado di costruire bene queste case sono facili da reperire o come se qualcuno ascoltandoti volesse fare la stessa cosa che hai fatto tu? il tecnico ho chiamato io si chiama Paolo Robazza ha lavorato per le case dell'Abruzzo quindi aveva questa esperienza io sono andato a vedere quelle case per rendermi conto un pochino di che cosa succedeva costruendo una casa in paglia è vero che si possono seguire anche dei corsi per imparare a fare questo tipo di costruzioni anche poi per mettere, tirare su la malta tu hai utilizzato delle malte naturali addirittura mi ricordo durante il reportage l'esperto di queste malte parlava di tecniche addirittura utilizzate dagli antichi romani sì ed è importantissimo questo per due motivi vabbè la ecosostenibilità che ci tengo sempre a ribadire e poi anche il fatto che le malte cementizie con il tempo perdono la loro durevolezza invece le malte fatte come gli antichi romani ne acquisiscono perché c'è un processo che si chiama carbonatazione che praticamente accade tra le parti di coccio e la calce che viene mischiata per cui con il tempo questo tipo di intonaco diventa sempre più solido addirittura esatto ed era il materiale che veniva usato poi per gli acquedotti e per le cisterne romane di cui troviamo ancora consistenti reperti attualmente ecco quindi con questa struttura di paglia e legno con una malta di tipo poi è traspirante questa malta di tipo romano traspirante traspirante ecco quali risultati si è riuscita a ottenere in termini di consumo in termini di isolamento termico sia estivo che invernale sì sono eccezionali direi perché il consumo è veramente ridottissimo la casa si scalda con due ore tre ore al massimo di riscaldamento giornaliero quindi direi che il risultato è ottimo per esempio dalla mattina alla sera la casa può perdere al massimo un grado di temperatura però rimane sempre costante quindi un risultato eccezionale anche ammettendo che ci fossero stati dei costi maggiori di produzione che poi non mi sembra che sia stato il caso si sarebbero abbattuti rapidamente con il risparmio energetico degli anni successivi sì è stato calcolato che da un punto di vista energetico una casa costruita in questa maniera risparmia 40 volte i costi energetici quindi è un risparmio importantissimo nel tempo inizialmente la spesa non è neanche così elevata perché anzi per una casa di queste di queste caratteristiche energetiche è senz'altro più basso bene direi che la tua testimonianza è molto molto importante spero che molte persone possano prendere ispirazione da quello che hai testimoniato tu oggi io adesso vorrei mostrare il seguito della visita guidata che ci hai fatto nel 2012 per vedere come si sono ultimate queste procedure di costruzione prego regia qui è stata creata appunto questa questa doppia camera questa è una funzione strutturale a piccoli travetti queste qua sono le sono i tiranti diciamo per le oscillazioni e ha una funzione antisismica si chiamano controventature tecnicamente qui vedete le cose dall'esterno ci sono delle parti metalliche che hanno una funzione strutturale queste sono anche queste riguardano un po' le oscillazioni della casa perché questo chiaramente è tutto normato adesso per motivi di prevenzione dei sismi la paglia viene tagliata con una motosega in sostanza e poi rifinita con un decespugliatore da un punto di vista costruttivo le parti diciamo sintetiche che sono state usate sono quelle che abbiamo dovuto usare per esempio per isolarci dalla dall'umido e quindi abbiamo una parete di confine con l'altra casa che è stata isolata per motivi proprio di di traspirazione quella parte ovest diciamo della casa quella lì perché lì si crea un problema la paglia deve rimanere molto asciutta la necessità è quella di tenere la paglia sempre asciutta poi c'è la parte anche del basamento che siamo stati obbligati a fare l'inciamento armato cioè quella è una struttura comunque che inderogabilmente deve essere fatta in cemento da un punto di vista proprio bene adesso che abbiamo terminato la visita guidata vorrei che tu ci chiarissi questo dilemma cosa succede durante la costruzione di una casa di paglia se si mette a piovere come vi siete organizzati anche perché noi siamo stati lì quei giorni e c'erano delle plastiche da tutte le parti è sempre così complicato o c'è una procedura che ci salva anche dal temporale ma è molto complicata la gestione della paglia innanzitutto c'è uno stoccaggio iniziale pure quindi la paglia va va tenuta sotto un telo e lì ho comprato un telo di più di 100 metri quadri per tenerla sotto e poi in fase di lavorazione c'è lo stesso problema la paglia diciamo se si bagna si rischia che si se tu chiudi le mura con la paglia umida è un disastro immagino devono essere assolutamente asciutte devono essere asciutte è difficile proprio che si bagni proprio all'interno anche se è esposta alla balla però va evitato chiaramente è un rischio che è meglio non correre e quindi sicuramente è un problema quando piove e quindi con i teli si corre per chiudere bisogna prendere mille precauzioni bisogna assicurare che la balla sia asciutta esatto la disavventura più grossa è stata con il tetto che avevo realizzato con le balle però ecco lì la pioggia ce l'ha fatto proprio smontare tutto completamente infatti senti ma se invece riesci a costruire bene la tua casa tutto perfettamente ma in futuro poi dovesse esserci una perdita di acqua di umidità ecco l'umidità può diventare un problema in futuro questi intercapedini che voi avete creato innanzitutto la traspirabilità di cui parlavo prima è importante perché c'è un passaggio di umido quindi c'è una regolazione dell'umido interno e esterno che è una cosa abbastanza rara anche le case più performanti dal punto di vista energetico molte volte tralasciano questo particolare perché la traspirabilità garantisce una non umidità interna e quindi sicuramente la quindi più traspirabile la casa e meno problemi ci sono di stagnazione di umidità esatto e quindi anche lì è un risparmio poi quindi paradossalmente ci sono meno problemi che con una casa tradizionale con delle malte industriali diciamo che sì diciamo sicuramente non diciamo viene isolata bene la casa sotto chiaramente non è non è che va improvvisato non è che puoi poggiare le balle di paglia sul terreno oppure su dei mattoni bisogna creare un isolamento in modo che sicuramente non ci sia umido che viene da sotto e poi nell'eventualità che ci sia una dispersione che può succedere una piccola perdita si può sostituire tranquillamente con un'altra paglia o all'occorrenza anche con altri materiali diciamo poi senti Giuseppe la tua scelta di questi materiali di costruire una casa dall'impatto più basso possibile poi mi hai spiegato anche che adesso hai intenzione con l'energia solare di di fare quel poco riscaldamento che fa e non farlo più a gas ma farlo attraverso l'energia solare quindi esatto stai andando un passo in avanti io vorrei sapere invece da dove viene la scelta di impiegare questi materiali di queste tue scelte tecniche vengono anche da uno stile di vita che ti porti dietro da molti anni e che nasce come come inizia questo tuo atteggiamento ecco la diciamo il primo approccio verso una vita diversa è stato con lo yoga sicuramente è stato il mio primo approccio diverso diciamo da quello che viene stiamo parlando di quanti anni fa eh di più di vent'anni fa ok più di vent'anni fa e poi è proseguito con esperienze diverse con ricerche diverse vedete anche abbastanza libri è stata una mia passione anche questa e vari tipi di filosofie orientali e ricerca insomma direi soprattutto ricerca ricerca in tutti i campi e poi lo sapete che sono a forza di leggere e di ricercare sei arrivato a delle conclusioni sei arrivato a fare delle scelte anche alimentari sì esatto la nostra vita è una scelta continua che determina tante cose per cui bisogna essere sempre responsabili di tutto e verso tutti quindi verso di noi e verso gli altri poi coincide in effetti perché vivere bene poi è un vantaggio per tutti senti ma ovviamente non è possibile essere essere consapevoli su tutto però qual è l'atteggiamento giusto per qualsiasi persona per avere diciamo nei confronti della vita un un miglior approccio riuscire a capire meglio il funzionamento delle cose qual è secondo te la cosa che aiuta di più è l'attenzione direi che l'attenzione che poi diventa conoscenza e anche la conoscenza aiuta poi a discriminare bene cosa fare come fare in primis poi anche la conoscenza di se stessi noi siamo preda a un pochino di tante cose dell'economia quindi della pubblicità degli status symbol di quello che ci viene proposto continuamente dalla televisione e quindi trovare una vita più autentica direi che non abbiamo grande scelta insomma una priorità per evitare queste derive che poi abbiamo un po' tutti sotto gli occhi queste pazzie che si sentono nelle cronache effettivamente sono un po' risultato di questa dispersione che abbiamo adesso senti però ti trovo un po' vago nella risposta nel senso che io ti conosco mai da molti anni ogni volta che ci vediamo e che ti sento c'è sempre questa pace cioè tu emani una pace molto particolare nel sorriso con il sorriso con il tuo atteggiamento eppure non conoscendoti molto io ogni volta che mi relaziono con te mi trasmetti questa questa serenità allora ok abbiamo capito che hai fatto yoga sappiamo che pratichi l'aikido però qui c'è una cosa che ci devi svelare qual è il tuo segreto dacci una chiave di lettura di quello che sei ma non credo che ci sia un segreto e non vorrei neanche dare delle ricette che sono magari sono valide solo per me quindi potrebbe anche essere sbagliato per altri non so esattamente ci sono sicuramente la pratica è una parte sicuramente importante però non è tutto può essere la pratica meditazione fondamentalmente la pratica meditativa è quella che ci consente di fare un po' di calmare le acque per vedere cosa succede dentro di noi altrimenti siamo preta un po' di tutti gli stati emozionali quindi diventiamo delle come dire delle macchine che rispondono a degli stimoli quindi questa catena se uno ha una certa attenzione riesce a essere già non così automatica quindi una tecnica che calmi l'agitazione questo è il tuo segreto tu conosci modo di calmare l'agitazione io in questo momento per esempio sono emozionato anche se faccio questi video quasi tutti i giorni tu invece sei lì che sembri sembro allora sei un attore che nascondi no però certo a volte ci si tiene a fare delle cose quindi questo provoca l'agitazione no per esempio l'agitazione può essere la paura di sbagliare la paura di fare una figuraccia questo può creare tensione no e questo anche si può osservare anche adesso uno lo può osservare questa cosa e questo già ti aiuta a stare più tranquillo dice di che cosa ho paura in questo momento poi fondamentalmente siamo il preda di tante paure non solo questa e queste però non ci devono guidare nelle scelte anzi sapere che cosa ci spaventa che cosa ci preoccupa è importante per capire come muoversi no sono vago no no sto cercando sto cercando di imparare da queste parole quindi tornando invece all'argomento che trattiamo noi più frequentemente la scelta alimentare la scelta alimentare ha una relazione un collegamento con con la tua scelta i tuoi diciamo atteggiamenti spirituali ma sì non so quanto e come però io sono vegetariano dal 72 quindi io da prestissimo ho avuto un rifiuto proprio per cibarmi di animali di esseri viventi proprio un rifiuto totale viscerale e ho vissuto per tantissimi anni lottando con tutti quelli che mi dicevano che mi sarei ammalato che avrei avuto un sacco di problemi poi per fortuna questa conoscenza questa filosofia di vita si è un po' diffusa per cui adesso ho avuto grandi contatti e grandi appoggi però questo sicuramente è importante la sofferenza degli animali è una cosa che ci tocca che ci riguarda è così di tutti gli altri esseri viventi questa è una questione anche di empatia empatia verso gli uomini ma anche verso gli animali a prescindere che poi il veganesimo è anche un'empatia verso gli uomini perché noi sappiamo che appunto la maggior parte dei cereali coltivati viene destinata alle bestie e non alle persone questa è una grande fonte di diseguaglianza e di ingiustizia nel pianeta quindi ci sono cose grosse e importanti al di là del io faccio come me pare me mangio la bistecca eccetera eccetera però ci sono delle cose importanti dietro bene io ti ringrazio per averci accolto nel tuo in tua casa virtuale in questo ed essere venuto a trovarci Giuseppe Oman se volete avere informazioni su come costruire una casa ecosostenibile anche in una città come quella come Roma come la capitale ma anche direi di contattarlo possono contattarlo trovarti su facebook lui opera a Roma come fisioterapista però come vedete conosce conosce tante cose interessanti quindi ci sono tanti buoni motivi per prendere contatto con lui grazie Giuseppe e alla prossima esperienza grazie e anche questa puntata volge al termine vi ringrazio per essere stati con noi vi prego di condividere il link di questa puntata sulle vostre pagine sulle vostre bacchè che così ci date una mano a diffondere questo primo live show questo primo programma online dedicato al lifestyle vegano bene è molto importante seguirci anche domani domani venerdì 2 febbraio perché saremo in diretta streaming dal negozio di ivegan l'unico il primo supermercato vegano di Roma che offre una gamma enorme di prodotti adatti per noi ci sono tutti sono tutti lì quindi è il posto ideale per andare a farsi un'idea completa di quello che si può mangiare di quello che si può utilizzare per fare una cucina saporita e variegata a base vegetale domani alle 9 trasmetteremo noi e ci saranno delle sorprese ma il negozio è aperto dalla mattina fino alle 11 di sera quindi potete venire in qualsiasi momento per usufruire per vedere quello che che è l'animazione di questa giornata questa giornata open di ivegan a via angelo emo mi sembra 22 controllate su internet e noi saremo lì dalle 21 con una diretta in live streaming e ci saranno degli ospiti speciali e soprattutto la degustazione di nuovi cibi e di ci saranno delle case produttrici di cibo vegano che ci faranno assaggiare le novità dalla regia mi comunicano che il negozio di ivegan si trova a via angelo emo 125 vicino al Vaticano e con questo vi saluto e vi dico ciao a domani a domani a domani Grazie.